Al primo luglio ritornano gli eventi di motonautica a Brindisi, sono tante le novità per un'iniziativa, per un evento che punta a diventare una vetrina importante per questo territorio. Sì, il sesto anno Adriatic Cup, un evento di motonautica importante a livello nazionale e internazionale. Anche quest'anno avremo delle novità, dalle moto d'acqua ai giovani piloti, al GT15, al Match Race, sono due comuni che si contendono in primo posto con dei piloti principianti, quindi aperto al pubblico ad un numero limitato. E' anche un villaggiano gastronomico che arricchirà il nostro evento. Contiamo ad attrarre un pubblico che provenga anche dalla provincia e da tutta la regione, stiamo facendo, penso, un buon lavoro, specie con la particolare collaborazione delle istituzioni, quindi Capitane di Riporto, Adottore Portuale, Comune, Camera di Commercio. Una sinergia perfetta e una sinergia anche con un altro evento che lo scorso anno non si è fatto a Brindisi, che quindi sono i sapori del Mediterraneo, che come ho detto prima potranno essere a disposizione dei nostri piloti e i piloti stessi diventeranno ambasciatori dei nostri sapori.